Fino al 29 marzo l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio Regionale in Viersenale a Torino è allestita la mostra fotografica sognando a casa gli ultimi testimoni di un Tibet libero. L'esposizione è realizzata dal fotografo Samkil Delek, figlio di esuli tibetani rifugiati in India ed alcuni anni residente in Italia ed è curata dall'associazione Free Tibet Italia Onlus. Rischiamo di perdere un vero testimone di Tibet libero, rischiamo che tra poco Tibet diventa solo un racconto. Allora ho cercato di raccogliere questi ritratti che sono testimoni del Tibet quando era libero, solo loro che possono raccontarci come era il Tibet, come sono arrivati i cinesi, come hanno occupato il Tibet e poi come hanno attraversato tutto l'Himalaya anche in piedi, poi si sono rifugiati all'India. Però quando sono arrivati all'India, al Nepal o al Bhutan dove sono rifugiati, loro pensavano di tornare tra un anno o due anni a casa loro. Non hanno mai pensato che questa occupazione dura così tanto, non pensavano che dovevano rimanere come profughi per questi tanti anni.